Adesso c'è un mercato veramente vasto, tengo a presente che le banche non sono più quelle di una volta, quindi i clienti adesso si stanno avvicinando sempre di più ai consumanti, quindi c'è un mercato di lavoro. Io faccio questo lavoro da vent'anni, quindi più o meno sono già per orientarmi verso i clienti. In più sono in una rete in cui i clienti vengono anche spontaneamente le risorse di una casa, è quello che mi rifanno.